2005 è un modo abbastanza doloroso soprattutto per i viposi del milan per cominciare anche se poi ci sarà la catarsi due anni dopo all'atene è la finale istanbul forse la finale più incredibile della storia del calcio ero lì come tanti c'è poco da spiegare su quella partita perché insomma quando valdini segna dopo nemmeno un minuto quando crespo fa doppietta quando assiste a un primo tempo di dominio assoluto evidentemente non puoi pensare che finisca in maniera completamente diversa all'intervallo ero col mio amico marco foroni negli spogliatori ho incontrato alan kennedy storico giocatore del liverpool di una ventina anni prima e che con il suo accento del nord dell'inghilterra di daramo dintorni era assolutamente devastato asfaltato dal primo tempo del liverpool io l'avevo intervistato giorni prima a casa sua nei giorni di preparazione della partita insomma il liverpool non era sceso in campo poi nel secondo tempo succede una cosa che enrico sacchi definirà una lezione di sport dopo una lezione di calcio primo tempo lezione di calcio del milan al liverpool secondo tempo lezione di sport dei tifosi del liverpool perché è vero che i tifosi gli spettatori non fanno mai gol però è vero che è stata impressionante la spinta che i tifosi del liverpool hanno dato nei primi minuti del secondo tempo alla loro squadra che era sotto 3 a 0 avevano tutti i motivi per essere molto arrabbiati e lì comincia qualcosa di assurdo di esoterico anche ingiusto perché milan quella partita già benissimo strameritava di vincerla c'è la famosa parata di dudek su scelta io una sola cosa mi sento di dire di quella partita incredibile assurda e maledetta per il milan che ero lì all'intervallo con marco con con anna kennedy e quella famosa voce uscita mesi dopo di caroselli festeggiamenti del milan non la posso smentire perché ovviamente a tre metri dallo spogliatoio delle due squadre e non c'erano caroselli poi qualcuno in cuor suo in quell'intervallo pensasse già della porta da casa questa è un'altra storia sappiamo che col calcio non si può scherzare soprattutto con le finali di champions league 2006 è stad de france beh la prima cosa mi ricordo è che ci abbiamo messo tipo tre ore a uscire dallo stadio a trovare un taxi e poi questo qui si fermava era tipo addormentato io dico severo è verde il semaforo se vuoi andare visto che è verde ma questo è un dettaglio e vince il barcellona in finale contro l'arsenal l'arsenal era sicuramente la squadra sfavorita veniva da una semifilale contro il via real eppure eppure in quella notte di parigi e lo stad de france era stato in vantaggio anche se c'era stato il cartellino rosso per le man dopo nemmeno venti minuti quindi era un po il senso della partita che andava in quella direzione però passavano i minuti e fino a un quarto da la fine l'arsenal era avanti 1 a 0 nel secondo tempo mi ricordo questa pioggia clamorosa non c'entra mazzarri o aspetti meteorologici però la pioggia veramente cambiò la partita quel giorno in maniera molto molto significativa e anche non in più cambia la partita è stata la grande notte del bar sa è stata la grande notte di samuel eto che in semifinale dopo aver eliminato il milan mi disse se c'è la famosa frase c'è da suonare la chitarra sono la chitarra se c'è da suonare il tamburo suona il tamburo come per dire se devo essere un gregario faccio il gregario eto diventa la mvp della finale segna un gol pesantissimo l'altro lo fa belletti il barcellona vince 2 a 1 festeggia è l'inizio di una nuova era per tutto il calcio catalano e samuel eto costruisce un pezzetto di quel suo dna da grandissimo campione che sa anche essere gregario se serve che quattro anni dopo torna molto utile a giosè murigno nella finale di madrid e in generale in tutto il percorso del triplet nero azzurro perché quando hai un fuoriclasse così che riesce però con la sua umiltà con la sua disponibilità verso i compagni anche a trasformarsi in un giocatore utile per la squadra più che per se stesso beh insomma hai fatto un grande colpo murigno l'aveva capito e quel barcellona di ricard è stato il primo momento in cui eto si è mostrato in questa grandezza 2007 la rivincita perché il calcio molto spesso è ingiusto e perfido e il calcio non ti dà indietro quello che avresti meritato invece il milan devo dire da questo punto di vista ha ottenuto un risultato inimmaginabile nel senso che ha ottenuto esattamente quello che meritava nel 2005 se andiamo a confrontare le due partite sicuramente il milan gioca meglio due anni prima anche se ci sta la vittoria nel 2007 con un super inzaghi ma insomma è veramente il contrapasso è veramente la pienezza è veramente la restituzione di qualcosa che era stato rubato al milan dal destino due anni prima di quella coppa dei campioni ho un ricordo bellissimo e devo ringraziare il mio amico alciato e ovviamente carlo ancelotti stesso che è una scena con la coppa la coppa non il salume che è buonissimo forse c'era anche la c'erano tutte e due le coppe c'era sia il salume che la coppa delle proprie un paio di giorni dopo la finale a fele gara a casa di carlo ancelotti con poche persone e c'è molto di ancelotti in quella in quella champions league c'è ovviamente il capolavoro nella semifinale di ritorno contro il manchester united all'andata il milan perde banalmente con un pallone buttato via nel finale perde 3 a 2 il ritorno è la notte perfetta la tempesta perfetta lui fa una cosa in mezzo al campo cambia la posizione di tre centrocampisti centrali cambia il triangolo lo rovescia lo ribalta viene fuori una prestazione da parte di caca e sedor soprattutto veramente straordinaria sono loro due che segnano i primi due gol poi arriva il terzo gol di gilardino nel finale la finale è una partita abbastanza inespressa e viene risolta da inzaghi inzaghi risolve quella partita perché aveva più il cazzato di tutti perché due anni prima contro il liverpool non aveva giocato e diciamo che a pippo inzaghi non giocare una finale champions league a nessuno fa piacere a lui fa particolarmente fastidio aveva dato particolarmente fastidio e quella sera fa inzaghi cioè trasforma in gol è tutto quello che tocca con un primo gol di astuzia una spizzata io chiaro all'oscuro Francesco Nuti non so se l'avete visto ma se si era appassionato di biliardo è proprio un tocco di biliardo il gol del 2 a 0 è un gol da attaccante puro di destrezza di freddezza di precisione di scatto di senso del tempo che è stata la specialità assoluta di un giocatore completamente diverso a tutti gli altri perché inzaghi inzaghi non faceva i palleggi ecco non si metteva a palleggiare il pallone non si metteva a fare queste cose futili per lui faceva un'altra cosa i gol e in questo caso i gol hanno portato alla coppa dei campioni e alla coppa piacentina che ho mangiato buona grazie a tutti